Ragazzi benvenuti in questo nuovo video, io sono Vapor e siamo di nuovo su Pokémon Unite Oggi vi porto un replay di quelli fantastici, infatti ci giochiamo la promo per Ultra Una delle divisioni più alte, infatti è l'ultima prima del Master, quella che è la divisione senza punteggio Quindi possiamo andare avanti all'infinito Ma prima di tutto ciò lasciate un bel like, le arriviamo, non lo so, ma si dai a 200 like per questo video Iscrivetevi al canale come al solito, io vi ricordo che sono in live tutte le mattine dalle 9 e mezza a 10 Quindi mi raccomando passate e vi lascio al video, al video, ciao Ci vediamo in Master, boys Che stamattina ho uscito un altro video Allora Andiamo, andiamo Ah, è in top zone, ok Eh dai, ce l'ha pure stillato questo Ah no, l'ha preso L'ha preso Nine Tails, ok Io so il 2 però Ok, ha preso lui, mi sa Adesso ti prendi questo qua su Eh no Non te lo prendi perché stai affaita con loro No, 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 non fare quello Non fare quello Niente Madonna Distrutto E qua, e qua Forse a metterlo ce la facevamo, eh Se abbiamo un attimino sbagliato dovevamo mettere quel punticino Questo è mio No, il centro fa sti cosini Eh Preso Nine? Sì Eh, ciaone Oh, attacchi me Vai Vai, vai così Ah beh Ma perché non ha messo sto Nine Tails? Vabbè Facciamoci questi Facciamoci questi Vediamo se riusciamo anche a prenderlo No, prenderlo Sono andato Sono bulba E abbiamo tolto tutto Anche la dignità Oh Di poco Peccato Peccato Se avessi stillato pure quello E' stato un casino per loro Eh, vabbè Eh, vabbè Eh, vabbè Magino che il loro jungle sia bot Aia Sicuramente non ci ho guardato Allora, ci prendiamo qui Allora, allora Stiamo qua A posto Solo ha preso È il cross chop della vita Possiamo andare, eh Ecco perché potevamo andare Aspetta che ti do la mano Vai, vai, vai Vai, vai, vai così Vai così Vai Boom Ok, c'è morto Ma ne abbiamo fatto tripla Mettiamo sti punti Let's go Prendiamo pure questi Che Però non riusciamo a metterli adesso Purtroppo Bacchettina Anzi, va Me le prendo tutte e due Tanto lui è pieno Buono cinderis Do sta? Marca Diavolo Eh, dove volevi andare Amico Mettimi sti 34 punti Per favore Ok Ah già Che scompaiono questi Scordo sempre Questo Questo Che vuole la stella Ah Flash Ancora il livello 7 Eh ma Non riusciamo qua A piazzarlo E invece Attenzione La bella ultima Itels Eh via 35 Già qua abbiamo fatto Eh occhio però Stavartila si può Comunque Trollare C'è Mette questo Sì Grande Occhio Occhio È al 9 Wow È tornato indietro Andiamo a bot Va Occhio Uccidiamolo Perfetto Vai sto Dread Chi è quello Ma che ne so Oh cavolo No Cioè no Mi sa che l'ho shottato Però Devo fare molto meglio Stavolta Aia Aia Via 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 Non mi guardare Non mi guardare Via tantissimo Via tantissimo Vede lo puoi scaricare gratis Dalla switch Ragazzi Madonna Sti messaggi Lunghissimi Dopo vi rispondo A tutti Bello Vabbè muore Dai Che voglia Se muore Attenzione Madonna Al momento Ci moriva Zero Allora Andiamo qua A posto Ma questi Non li posso fare Minchia Già 50 Cosi C'è uno Zero Non è una buona idea Usare subito L'invincibilità Mio caro Sindelis Eh però Non è anche una buona idea Stare qui Sanno i miei alleati Adesso Adesso la situa Cambia Eh aspetta Che c'ho poca vita Non ho la ulti Rotom Mi sa che è morto Peccato Ciò Mette 50 No Non l'abbiamo Messo Peccato Vai via Vai via Uddio La ulti a me Ma perché Speriamo di controllarla Cavolo Questa è veramente Una disgrazia Che cosa succede Qua Sì E tu E tu Che stai facendo Qui Eccolo Eccolo Boom Morti tutti Arrivato Paschione E arrivato anche Lo Zapdos Che decreterà La fine di questa partita Dato che loro sono tutti morti Non hanno modo di Stopparlo Surrendano E ragazzi Ce l'abbiamo fatta Ci siamo riusciti Contro tutte le previsioni Contro tutte le previsioni Con le 13 kill Stemiamo next E godiamoci L'animazione Anzi Storia pure Perché sì Niente faccia da limone Stavolta Una bella vittoria Andiamo avanti Veteran Classe 5 Diventa Ultra Classe 1 E E basta Un cristallino Vai Siamo in Diamond Già Una bella vittoria Vapor 966 Su Instagram E su YouTube Ragazzi Mi raccomando Mi raccomando